Si parla tanto di ripresa economica dell'anno in corso, una ripresa economica che molti, anzi praticamente tutti, ripetono sia estremamente robusta, vigorosa e superiore anche alle più rose aspettative. Parla di aziende stracolme di ordini da evadere, non solo per questa parte finale dell'anno, ma anche per tutto il 2022. Personalmente nel mio microcosmo io non sto constatando tutto questo ottimismo. Tuttavia, lo ripeto, io conosco soltanto piccoli e piccolissimi imprenditori, quindi magari la grande industria, le grandi multinazionali sono davvero in una fase di espansione economica. Però, però, apro Google News e leggo una notizia. CNH, conoscete tutti, immagino, Case New Holland, cioè leader mondiale assieme a Caterpillar nella produzione di macchine in movimento terra, di gru, ma anche trattori, veicoli industriali, autobus e anche veicoli speciali, insomma, non indaghiamo, non andiamo in là. Comunque sapete che Fiat Industrial si è fusa, o meglio ha proprio acquisito CNH, formando così CNH Industrial che, come tutte le aziende del gruppo Agnelli, ha sede legale ad Amsterdam e sede fiscale a Londra. Quindi sappiamo che di italiano è rimasto ben poco. Ma a parte questa particolarità, che comunque probabilmente era nota a tutti, parlo della CNH Industrial perché leggo che la multinazionale ha chiuso gli stabilimenti europei. Naturalmente è una chiusura temporanea, tuttavia non è una cosa da poco. Ed ovviamente il motivo della chiusura è la penuria, anzi la mancanza di chip, di microchip, lo stesso motivo per il quale ieri la grande multinazionale americana Apple ha annunciato il taglio della produzione di 10 milioni di iPhone. Questa storia dei chip, vabbè, lo dico a mio avviso, ha molti lati oscuri, insomma non è del tutto chiara. Improvvisamente nel 2021 veniamo a conoscenza che possiamo avere crisi dal lato dell'offerta. Ma soprattutto veniamo anche a scoprire che praticamente tutti i chip o la stragrande maggioranza si costruiscono a Taiwan. Certo, sapevamo che a Taiwan si concentravano diverse aziende produttrici di chip, ma così tante da fermare praticamente il mondo. Cioè il mondo dipende da Taiwan. Io nutro seri dubbi. Non sono perfettamente aggiornato, lo dico subito, sulle macchine industriali, però qualche mese fa, ma pochissimi mesi fa si parlava del settore automobilistico come di un settore in piena crisi. Un settore per il quale se fossero venuti a mancare i soliti aiuti statali sarebbe stata una vera catastrofe. Ed oggi invece ci si rammarica perché non riescono a stare al passo con gli ordini. Mi sembra davvero molto strano. Insomma, per usare un eufemismo, lo ripeto, sono molto dubbioso. Insomma, quindi, azienda multinazionale italo-americana, cioè CNH Industrial e azienda multinazionale americana Apple riducono fortemente i loro ordini. Quindi tutta questa euforia per la ripresa economica io non la vedo. Comunque lascio le notizie economiche che appunto non sono confortanti e mi distrago un po' con quelle sportive. Leggo su Sport Mediaset. Inter Suning ha lavoro con le banche cinesi per ristrutturare il debito. Oddio, anche le aziende cinesi. Sembra infatti che il bilancio estremamente positivo del calciomercato estivo, cioè la differenza tra entrate e uscite, vendite di giocatori e acquisti di altri giocatori. Sono stati venduti giocatori di altissimo livello dalla parte appunto dell'Inter. Quindi questo bilancio estremamente positivo pare che non sia sufficiente. Pare che il governo cinese infatti abbia chiesto a Suning interventi decisi volti al miglioramento appunto della propria situazione finanziaria. Una situazione finanziaria definita estremamente preoccupante. Suning infatti è esposta per 2,6 miliardi di dollari nei confronti di Evergrande che, come sapete tutti, è quel colosso del comparto immobiliare cinese che è sull'orlo del fallimento. Non ha pagato per la terza volta le cedole di obbligazioni in scadenza. Quindi Suning è così chiamata ad una ristrutturazione dell'esposizione debitoria complessiva. E le cifre sono decisamente rilevanti. Limitandosi soltanto all'aspetto calcistico, quindi all'Inter, beh, fra qualche mese dovrà essere rifinanziato il bond da 400 milioni di euro. E poi il bilancio 2020-2021, nonostante la vittoria dello Scudetto, si chiuderà con un passivo di 246 milioni di euro. Quindi, insomma, è probabile che anche nella finestra di calciomercato di gennaio alcuni giocatori dell'Inter lasciano la squadra nerazzurra perché, diciamolo in maniera papale papale, Suning ha bisogno di soldi. Ricordiamo poi, ecco, a beneficio di chi non conoscesse questa multinazionale cinese che opera nel settore degli elettrodomestici e dei prodotti elettronici, ma ha una parte rilevante anche nel settore real estate, quindi nel settore immobiliare. Ma comunque, forse, ecco, per dare un numero che così ci fa capire maggiormente di che livello è un'azienda di questo genere, nel 2019 Suning ha fatturato 39 miliardi di dollari. Questo è l'ordine di grandezza della società che oggi in Cina sta avendo dei problemi per ristrutturare il proprio debito. E sapete tutti che quando si parla di ristrutturazione del debito si parla di guai seri per l'azienda. Vabbè, concludo con un addio. È partito l'ultimo volo all'Italia. L'hostess, almeno così ci informano, l'hostess che ha annunciato il volo dicono che fosse commossa e abbia detto siamo in lutto. Ah, probabilmente il lutto sono tutti gli italiani che nel corso di tanti anni hanno finanziato la compagnia di bandiera tramite le proprie tasse. All'Italia è costata ai contribuenti italiani qualcosa come 12 miliardi di euro. Una cifra pazzesca, con la quale oggi non so quante compagnie aerei potremmo comprare. Certo, con la partenza dell'ultimo volo all'Italia non è che possiamo dire essere sicuri, diciamo, che agli italiani non siano poi chiesti nuovi sacrifici. Sappiamo che all'Italia, un po' come l'araba fenice, rinascerà dalle sue spoglie con il nome di Ita. Intanto all'Italia lascerà in eredità una bella voragine nei conti ad Ita. Ita parte così, in maniera più ridotta, 52 aere e 2.800 dipendenti, ma insomma questo è solo l'inizio. Vabbè, insomma, non voglio essere a tutti i costi pessimista, però insomma, se si guarda in giro anche al di fuori dei nostri confini non è che le cose poi per le grandi, per le grandissime aziende vadano così bene. Insomma, queste multinazionali non sembrano in piena salute. Comunque, l'euforia per la ripresa economica per il momento, io la lascerei da parte. E domani è il 15 ottobre.